Allora Paolo, parlaci oggi della prima tappa del Cammino Materano. Allora la prima tappa del Cammino Materano è in realtà da Martina a Crispiano, però siccome l'abbiamo già percorsa con la rotta dei due mari l'abbiamo saltata. Quindi questa è la seconda tappa del Cammino Materano, via Ellenica, da Crispiano a Massafra, 16 chilometri, diciamo non dovrebbe essere particolarmente complessa. Siamo partiti da poco da Crispiano e prevediamo di arrivare a Massafra tra 3-4 ore. Ebbè certo, non è pesante, è Alfredo che sta davanti, ve lo faccio vedere e io sono questo qua insieme a Paolo, vedi? E salutiamo tutti i nostri amici che sono rimasti a casa. Bene. Bene. la foresta massonia 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 la foresta massonia